Io ho ancora una pressione su me e non cazzo le colpe. Tra l'altro non è in perfetta forma e quindi evitiamo altre cose. Per favore. Ci giriamo. Allora possiamo fare sulla collina. Tutti dormono. Dormono sulla collina. Una catena di pazzi siamo. Sulla collina. Dove sono? Ella e Kate morte entrambe per errore. Una da posto, l'altra da morte. Kate. No, lo devi fare. Sì, camminando e girando. Sì, a destra però. Cioè, che cosa allucinante. Cioè, lui la sa e capiccio. Giri, cammini sulla destra uccisa in un bordello. Un minuto di pausa. Un minuto di pausa per me. Giri, c'è un bordello. Non è che a destra uccisa in un minuto di pausa. E si tira bene la parola. Passiamo, mi stai andando a non fare il video. Scusa. No, non è che a destra uccisa in un minuto di pausa.